La fuga dei tre rapinatori alla banca di San Cipriano è durata solamente alcune ore. I malviventi sono stati infatti fermati dalla polizia stradale di Arezzo. Si tratta di tre palermitani di età compresa tra i 22 e i 27 anni, considerati veri e propri professionisti delle rapine. La banda è stata bloccata durante un controllo da una pattuglia nella notte tra martedì e mercoledì. Sono stati ritrovati in possesso di 50.000 euro in contanti provento della rapina messa a segno solamente qualche ora prima alla filiale di San Cipriano nel comune di Cavriglia. I tre erano appena arrivati dalla Sicilia e avevano studiato il colpo nei minimi dettagli. Erano partiti in auto con il traghetto da Messina domenica sera per arrivare così a San Cipriano e mettere a segno il colpo alla banca del Valdarno. La banda era entrata in azione alle 13.30 di martedì. Uno dei tre, passato alla porta gilevole, aveva scavalcato il bancone e minacciato il direttore consentendo così l'ingresso ai due complici. Due banditi avevano il volto in parte coperto dal cappuccio, solamente il capo della banda era volto scoperto. I tre si erano fatti consegnare oltre 50.000 euro in contanti e prima di partire con una Fiat Uno avevano consigliato alle vittime di non chiamare per almeno 10 minuti la polizia. Providenziale è stata l'impiegata della banca che aveva memorizzato la targa dell'auto e aveva così contattato il commissariato di Montevarchi. I poliziotti, visionate le immagini a circuito chiuso della banca, avevano diramato le ricerche dell'auto e dei rapinatori. Il viaggio della banda che aveva cambiato l'auto con una Mercedes si è concluso solamente poche ore dopo quando un equipaggio della sottosezione di Arezzo li ha intercettati in tarda serata sulla Una all'altezza di Lucignano. Il cerchio si è poi chiuso a battifolle nella caserma della polizia stradale. I tre autori di altre rapine sono stati arrestati e messi a disposizione della procura di Arezzo. Grazie. 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 Grazie.